Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. Prezzo di Bitcoin ha recuperato il supporto di 30.000 dollari dopo aver testato per poco i 29.130 dollari il giorno precedente. Tuttavia i trader si chiedono se la ripresa sia sostenibile dato il maggiore controllo normativo, soprattutto negli Stati Uniti. Samsung in genere riprende il vantaggio su Apple nel primo trimestre ogni anno, ma sembra che questo non sia più garantito se si guarda al primo trimestre del 2023. Samsung aveva una quota di mercato del 22%, con Apple subito dietro al 21%. I prezzi dell'oro sono aumentati dopo due sessioni di perdite, mentre il dollaro si è allentato, mentre gli investitori hanno cercato maggiore chiarezza sulla posizione di politica monetaria della Federal Reserve statunitense. La coppia sterlina britannica a dollaro americano ha guadagnato lo 0,4% nell'ultima sessione. Il MACD sta dando un segnale sell, andando contro la nostra analisi tecnica generale. La coppia euro-dollar americano ha guadagnato lo 0,4% nell'ultima sessione. Il segnale buy del MACD è in linea con l'analisi tecnica generale. L'ultima sessione ha visto il dollaro australiano guadagnare lo 0,4% contro il dollaro americano. Lo stocastico LSI sta dando un segnale buy. La coppia dollaro americano-yen giapponese si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,2%. Secondo il CCI siamo in un mercato overbought. L'indice centrale dei prezzi di consumo del Regno Unito sarà rilasciato alle 6. L'indice armonizzato dei prezzi di consumo dell'Unione Economica e Monetaria alle 9. Le importazioni del Giappone alle 23,50. Il Beige Book della Federal Reserve degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 18. L'indice dei prezzi di consumo del Regno Unito alle 6. Il Westpac Living Index dell'Australia alle 0,30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.